candidi buongiorno bentrovati a tutti quanti allora questo giovedì 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 riscrivetevi al canale condividete il video mi raccomando cazzo 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 allora fa veramente cagare sta roba comunque benvenuto a Pierluigi Gollini salutiamo Sirigu io un po' sono dispiaciuto devo essere sincero perché avevo approvato la scelta di Salvatore Sirigu a inizio stagione come dice Meret ma evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato secondo me è proprio una questione di rapporti non so se lui si aspettasse di giocare di più se si aspettasse una maggiore coinvolgimento da parte di Spalletti pure sembrava essere comunque uno di quegli uomini di esperienza che potevano non mettere troppo pressione su titolare designato e essere comunque far valere la propria esperienza al servizio del gruppo ecco e invece qualcosa evidentemente non non ha girato nel modo giusto nonostante dal punto di vista dei rapporti con la squadra non ci fossero problemi evidentemente qualcosina con Spalletti che è l'unico che Sirigu non ha nominato nei ringraziamenti di rito al termine della sua avventura napoletana per andarsela a casare in quel della viola arriva un Gollini che tutto sommato ha già fatto qualche piccolo danno perché ci ha già tolto due punti se vi ricordate il tiro di Raspadori a Firenze nello 0-0 alla terza giornata fu proprio Gollini a togliere quella palla dall'angolino basso e adesso magari parleremo di 52 punti invece che 50 ma comunque corsi ricorsi è inutile starli a menare il camperlaia lo accogliamo speriamo abbia la consapevolezza di quello il suo ruolo il titolare è Alex lui è la riserva questi sono i ruoli se se ci dovesse essere modo di poter scendere in campo lo farà altrimenti non dovrà comunque rompere il cazzo come dicono da qualche parte mercato del Napoli mercato del Napoli che oserei dire chiuso blindato non credo che in questi cinque giorni che mancano alla fine ci saranno degli sconvolgimenti magari ci potrebbero essere operazioni ma non minoi ancora di più quindi con giovani in prestito che magari rientrano per andare a giocare in altre parti ma la la rosa è fatta ci sono due uomini per ogni ruolo per sostenere queste due competizioni che abbiamo ancora a disposizione non ci sono dubbi da questo punto di vista non verranno eventualmente nemmeno prese in considerazione offerte per qualsivoglia giocatore demme incluso che sembra alla fine essersi convinto a rimanere e vedere di ritagliarsi qualche spazio perché oh raga è inutile che ci piampere il culo il campionato la stagione comunque entra nel vivo adesso ci sarà la Roma poi lo Spezia la Cremonese poi si ricomincerà con la Champions League ci sarà in una settimana Sassuolo Eintracht e Empoli tutte e tre in trasferta prima di poi tornare a giocare in casa contro Lazio e Atalanta non so se Lazio e Atalanta o Atalanta e Lazio ma comunque entrambe in casa quindi febbraio sarà zeppo di impegni spazio ce ne sarà per tutti Spalletti dovrà essere bravo a dosare le forze di quella che è la formazione titolare e concedere anche alle alternative il giusto spazio io mi aspetto sicuramente la squadra migliore nei prossimi tre impegni quindi Roma Spezia e Cremonese da Sassuolo in poi Sassuolo a Intrattempoli lì ci dovrà essere una ottima ottima gestione delle forze ottimo dosaggio delle energie perché non si possono giocare tre partite comunque tutte tre fondamentali perché io vi ricordo che manca un girone al termine del campionato e nonostante il vantaggio accumulato nulla è stato deciso io per esempio nelle tasche non c'ho ancora un cazzo non c'ho niente in tasca quindi controllate bene nelle vostre tasche rischiereste di non trovare niente quindi state calmi volate basso giochiamo partita per partire quindi dosaggio delle forze sarà il mantra del mese di febbraio poi capiremo una volta affrontato anche il discorso Champions League che cosa ne sarà di noi se concentrarsi solo sul campionato o se avere a disposizione anche un quarto di finale ma molto ma tutto dipenderà dalla doppia sfida contro l'Aintracht di Francoforte che non dimenticate veleggia tra la seconda e la terza posizione in Bundesliga quindi tanto scarsi non sono a chi ha festeggiato per il sorteggio sì vero è meglio loro che prendere il City che poi non avremmo potuto prendere perché primi primi però per farvi un paragone chiaro siamo tutti contenti di aver preso una squadra non big perché noi con i sorteggi siamo sempre sfigatelli però questo non ti garantisce il passaggio del turno ecco mettiamolo in chiaro questo questo punto quindi attenzione massima sulle partite di campionato attenzione massima sul Champions League però per la Champions League c'è ancora tempo ci sono ancora una ventina di giorni da vivere per prepararcisi e in cui le sfide saranno sempre comunque toste perché domenica arriva la Roma Roma è la squadra più in forma del 2023 lo dicono i numeri hanno un punto hanno fatto un punto più di noi è andato di fatto sono tre partite che non prendono gol ci hanno già fatto assaggiare all'andata il loro modo di difendere il castello e lo fanno bene quindi sarà una gara con pochi spazi sarà una gara tremendamente fisica sarà una gara importante fondamentale per il destino di entrambe forse più per il loro che per il nostro perché noi abbiamo a disposizione questo bonus dei 12 punti di vantaggio che quindi ci può permettere qualche passo falso in più sì ma se i passi falsi non li fai è meglio perché così continui a non concedere alle persone alle squadre che stanno lì dietro la speranza di riaccendere la speranza quindi questo è il nostro compito impedire che la speranza delle inseguitrici si riaccenda che si ringalluzziscano o che si gasino a tal punto da poter ipotizzare una rimonta nei tuoi confronti quindi questo è il nostro compito e il nostro compito non prevede sole vittorie prevede anche eventuali sfide dove l'importante è non perdere questa è una di quelle perché poi sentirei già dopo un pareggio magari con la roma ecco stiamo calando non vi permettete perché vi sputo alla telecamera e ve lo dico punti non si buttano le cose fondamentali quando hai questo tipo di vantaggio e non perdere perché mantenere la roma a 13 punti è vero il milan tornerebbe a 10 qualcun altro si si avvicinerebbe no va bene poi però la settimana dopo c'è il derby quindi bisogna anche non dico cominciare a fare dei calcoli ma evitare di dire stronzate ecco questo è perché l'importante è quello e ci sono poi altre sfide no più avanti non è che giochiamo solo noi i big me le giocano anche gli altri quindi se tu libid me non perdi e fai il tuo dovere con le medio piccole caro mio il vantaggio lo mantieni lo mantieni quasi inalterato ed è quello che noi dobbiamo fare quello che dobbiamo essere in grado di fare da qui in avanti non bisogna fare un errore noi l'abbiamo già pagato a caro prezzo l'errore la presunzione il dare per scontato che siccome hai fatto 50 punti siccome sei bello sei bravo sei buono sei efficace ti consegneranno lo scudetto e la champions league no ogni santa partita ogni santissima partita te la devi giocare ti devi sudare ogni centimetro di campo e ogni singolo gol perché se smetteremo di fare questo saranno cazzi amari quindi io mi fido della squadra mi fido di luciano so che hanno capito che hanno tra le mani l'occasione della vita lo so lo sanno lo sappiamo ma so anche che sono ben consapevoli del fatto che non hanno ancora in mano niente e per prenderselo hanno bisogno di perseverare perseverare continuare a giocare continuare a produrre gioco mai tirare dietro la gamba mai pensare di poter vincere le partite semplicemente perché lo dice la classifica l'errore fatto in coppa italia la presunzione avuta in coppa italia contro la cremonese ci ha dimostrato che se soltanto abbassiamo la concentrazione rischiamo di andare a casa con l'ultima in classifica della serie a detto ciò vediamo quale sarà l'approccio alla gara di domenica nei prossimi giorni conferenze stampa informazioni notizie ripeto di calcio mercato non ne parleremo immagino spero più perché per quanto riguarda noi non ci sono problematiche da affrontare doveva essere il video a freddissimo della finale del girone d'andata ma è stata un po' una chiacchierata su quello che è il futuro immediato dei ragazzi amici io non ho nient'altro da aggiungere vi auguro un buon proseguimento di serata tante care cose non vi dimenticate che il calcio fa bene alle ossa non vi dimenticate di iscrivervi nemmeno al canale che dai stiamo stiamo salendo bisogna arrivare ai 1200 il prima possibile e se nei prossimi giorni avrò del tempo a disposizione una piccola live la possiamo pure piazzare stay tuned e seguite dopo che vi siete iscritti con la campanella tutti gli aggiornamenti mi raccomando un abbraccio ciao